Ciao da Apsim! Come la mia felpa Tocco Felpato che potete acquistare anche in altri colori sul mio store toccofelpato.shop E parliamo allora di questa partita che apre la 29esima giornata di Serie A Una bella partita ovviamente non spettacolare, non entusiasmante Era comunque un Empoli, un Empoli certamente non bello, un Empoli certamente non costruttivo, non propositivo Ed anzi pieno di difetti che comunque ha provato a fare la sua onesta partita Che comunque ha avuto anche delle occasioni che comunque nel primo tempo diciamo che se l'è anche giocata Poi alla distanza se l'è giocata sempre meno, ha giocato sempre più alto, sempre più intenso, sempre più forte Il Bologna di Tiago Motta che sarà sempre più presto non più di Tiago Motta Perché andrà da qualche altra parte a fare miracoli, a fare miracoli, a fare miracoli lui sì Mago Motta a fare miracoli davvero da qualche altra parte Però parliamo di un'ennesima prestazione importante, interessante del Bologna Perché ne parliamo? Ne parliamo perché il Bologna ha perso Zirk Zee Infortunato anche a lungo E la sostituzione di Zirk Zee certo non è stata facile E infatti dobbiamo parlare della differenza di prestazione tra Odgaard e Castro nel suo subentro nei minuti finali E dobbiamo parlare anche della differenza di prestazione magari tra Fabian e Urbanski Ebicel rispetto a Ferguson, anche Corazza rispetto a Boichema che è entrato comunque qualche minuto E ha dovuto fare pochissimo il giovane Corazza perché l'Empoli non ha più attaccato Oltre Orsolini al posto di Ndoie Perché i cambi sono stati secondo me determinati per la dinamica della partita Per l'inerzia della partita Perché Motta i cambi li ha fatti veramente giusti Non altrettanto Nicola che ha messo un inguardabile Niang Un inguardabile Niang che se anche mangiato un gol incredibile Avrebbe potuto sicuramente fare decisamente meglio in quella situazione Ma anche il Bologna se ha mangiato i gol Anche il Bologna ha avuto occasioni clamorose già nel primo tempo Proprio la partita è iniziata in realtà nella prima metà del primo tempo Con occasione raffica, occasione a ripetizione Parate davvero importanti di Caprile Parate veramente importanti Secondo alcune statistiche può essere stato anche il migliore in campo Secondo molti è stato il migliore in campo dell'Empoli Sicuramente il migliore dell'Empoli Anche se nell'Empoli onestamente non mi è dispiaciuto Cambiaghi nelle due fasi Non mi è dispiaciuto Marin Che ha fatto una partita di un certo equilibrio Comunque nell'impostazione dietro l'Empoli abbastanza bene E nelle letture difensive meno L'occasione infatti di quella di Niang Per quanto riguarda l'Empoli è nata da un errore invece della difesa del Bologna Deve essere stato l'errore di Boichema nell'impostazione E poi però il recupero dello stesso esatto Proprio su Niang Ma dovremmo parlare in termini difensivi anche di Riccardo Calafiori Che Spalletti non ha convocato in nazionale per queste due amichevoli negli Stati Uniti Ma credo che servirà a qualche altra partita perché qualcuno riesca a togliere un pallone A togliere un pallone a Riccardo Calafiori Perché per una partita intera non gliene hanno tolto mezzo Non c'è riuscito nessuno In nessun modo due lì aerei Anticipi Anche quando il pallone non ce l'aveva lui Scivolate Recuperi Con grande maestria In maniera veramente incredibile In maniera veramente cattedratica Una prestazione di Tiago Motta Strattonato alla fine dopo il gol Perché stava segnando anche lui Grandissimo tiro Grande occasione Poi gol mangiati Qualcosa Ecco Castro L'ha sfiorata In una delle occasioni finali Quello che se l'è mangiato assolutamente è stato Orsolini Veramente un gol divorato E poco prima un altro gol divorato da parte di Salemakers Che ha fatto però una buonissima partita E dicevo appunto dei cambi Perché Ndoye ha fatto una buona partita Ha partecipato tanto Si è mossa abbastanza bene Poi è calato È calato Infatti ha perso un pallone Ha sbagliato una ricezione di passaggio Abbastanza evidente E lì Motta ha detto Ok sei stanco Ti tolgo Anche perché Credo anche un po' ventilato Il clima Ma piovosissimo Sicuramente Non freddo ma fresco Comunque quasi freddo Quindi una serata certo non facile Terreno che però ha tenuto benissimo Devo dire un ottimo prato Un ottimo terreno quello del Castellani Questo va detto E quindi Esce Ndoye Entra Orsolini Che entra benissimo Orsolini Dà il cambio di passo Detta anche i passaggi in avanti Lì sulla fascia Con Poi questo insomma Lo do per scontato Perché chi conosce il Bologna Tiago Motta di quest'anno Lo sa che si tratta di Fare tantissimo movimento Esci Entra dentro Fuori Passi E ti smarchi Quindi Grandissima maestria Grandissimo Bellissimo gioco Tutto molto funzionale Tutto molto Efficace Fluido Bello A cui Orsolini Ha partecipato sicuramente meglio Rispetto Andoye Mi è piaciuto molto Comunque anche Sia Urbanski Secondo me ha fatto Una buona partita da titolare Andato anche al tiro E anche Ferguson Sicuramente una buonissima partita di Ferguson Si è mosso davvero tanto bene Ed è fondamentale Ferguson Veramente fondamentale Nella costruzione Poi Ebischer ha dato pure lui Il suo contributo Ma i cambi più importanti Sono stati Orsolini per Andoye E Castro per Odgaard Perché Odgaard È un buonissimo giocatore Odgaard è un buonissimo giocatore Ha fatto già cose importanti In questa stagione In questa partita Però leggermente deludente Però È chiaro Devi andare a sostituire Zirkze Ha caratteristiche diverse E non riesci più di tanto Qual è la differenza Tra Odgaard e Zirkze Evidentemente I movimenti A scendere Per alleggerire la pressione E partecipare alla manovra Zirkze Lo fa molto meglio Molto di più Odgaard È stato un po' più Terminale e offensivo Però Per un Bologna Che palla a terra Costruzione Dettagli Non da poco 6-0-0 Nei minuti finali Nel recupero Guadagni un calcio di punizione In difesa A lato corto Dell'aria destra Vicino alla bandierina E batti Palla a terra Cioè lì Non esiste lancio lungo Non esiste lancio lungo Palla a terra Tanto il pallone Passa tra i piedi Di calafiori E infatti Infatti poi vai Anche a segnare Benissimo Tra l'altro La difesa Tutta la difesa Del Bologna In tutte le eventuali Ma eventuali Ripartenze dell'Empoli Nel secondo tempo E infatti dicevo I cambi sono stati determinanti Perché Nicola non ci ha capito nulla Nicola non ci ha capito nulla Ripeto Ha messo un inguardabile Niang Dopodiché Lo ha tolto E ha messo Caputo Che non ha fatto Assolutamente nulla E ha tolto Un buon cambiachi Per mettere un cerri Anonimo Che è entrato Soltanto a fare un po' L'energumeno Qualche sportellata Cioè da quando ha fatto i cambi L'attacco dell'Empoli Si è azzerato L'Empoli Si è abbassato sempre di più La metà campo del Bologna È diventato un miraggio E non sono riusciti più A recuperare E a costruire nulla Più recuperare un pallone E a costruire nulla Proprio poco prima del gol Avevano avuto un intercetto Con una possibile ripartenza Pallone immediatamente Controintercettato E su questo Tra l'altro Si è visto il valore Di un Bologna Che ormai Ha preso l'abitudine A vincere Vuole vincere Sa vincere E gioca per vincere In maniera massiccia Cioè questa partita Non è scontato Non è scontato Che un Bologna Sazio di risultati E di punti Insista per vincere Per forza contro l'Empoli Perché uno 0-0 È comunque un pareggio L'Empoli Non difficilmente Sarebbe andato a segnare L'Empoli anzi Si è raccontentato Dello 0-0 Fondamentalmente Invece il Bologna Vuole altri tre punti Perché evidentemente Ci stanno credendo davvero Nel sogno Ci stanno credendo davvero Che possono andare In Champions O quantomeno In Europa Infatti Insomma la classifica In questo momento dice All'apertura Quindi della 29esima giornata 54 punti Che sono soltanto 4 punti in meno Della Juventus E 5 punti in meno Del Milan Ovviamente Milan e Juventus Entrambe Devono ancora giocare Però ora in questo turno 29esima giornata Il Milan deve giocare Fuori casa Contro il Verona Che non è facile Però certamente Non è uno scontro diretto Tra le prime della classe La Juventus gioca in casa Col Genoa E assolutamente Non è facile Ma anche in questo caso Non è uno scontro diretto Però appunto A livello di classifica Il Bologna Fa altri tre punti Tre punti fondamentali Perché poi Sono anche Soprattutto direi Sono soprattutto Più 6 Sulla Roma Sono soprattutto Più 6 Sulla Roma Al di là di dove siano Juventus e Milan Poi stiamo dicendo Che potrebbe andare Anche la quinta squadra In Champions League Per cui A dirla tutta Il Bologna È più 6 sulla Roma Ma è più 7 Sulla Atalanta E in questo turno Abbiamo Atalanta Fiorentina E la Roma Che gioca con il Sassuolo Quindi la Roma Dovrebbe essere facilitata A vincere Atalanta Fiorentina Non è assolutamente scontata È quasi una tripla E poi c'è il Napoli Che gioca con l'Inter L'Inter non interessa più A nessuno L'Inter non interessa Più a nessuno Neanche all'Inter stessa Perché lo Scudetto L'hanno vinto Dovessero anche perdere Col Napoli Non ci sarebbero problemi Perché dopo Devono fare solo 9 partite di campionato Senza più altri impegni Nella vittoria del Napoli Che potrebbe andare a 47 Riagguantando eventualmente L'Atalanta Se perde con la Fiorentina Cambia molto Per quanto riguarda il Bologna Quindi è una squadra Che ci sta Credendo Come dicevo Con grande Intensità Con grande Impegno Ho fatto una crassi Tra impegno e intensità Con grande Centratura Con Con qualità Con grinta Con voglia Anche in partite Difficili come queste partite Che sembravano stregate Cioè sembrava che il Bologna Non sarebbe stato in grado Ieri sera Di vincere questa partita Di fare quindi Questi tre punti fondamentali Poi anche sul discorso Di fare i tre punti Che accontentano tanti No bastano i tre punti Vedi c'è anche modo E modo di farli Perché per andare A segnare Il Bologna Non si è snaturato Non si è snaturato Ha giocato palla a terra Ha cercato di entrare In area di rigore E nel terzo Nel terzo offensivo Massicciamente Con tantissimi giocatori Praticamente con tutti Ha fatto un gioco Intelligente Ha fatto un gioco Efficace Pulito Con tanti smarcamenti C'erano sempre Tantissime soluzioni Si andava al cross Solo al momento opportuno Quindi non c'era Questo crossing game Disperato Per cui dovevi comunque Buttare il pallone dentro E infatti poi il goal Il goal nasce Da una situazione In cui quanti ce n'erano In area 3-4 Oltre al tiro Di Calafiori Che era sulla tre quarti Da difensore centrale Quindi io penso Che sia una vittoria Di grandissimo valore Questa del Bologna Contro l'Empoli Un Empoli che comunque Deve ancora salvarsi 25 punti E rischia Anche se il Frosinone Dovrà giocare Contro la Lazio Non sarà facile Come abbiamo detto Appunto anche il Sassuolo Ha una partita Impegnativa Contro la Roma Però è un Empoli Che ultimamente Sta anche resistendo Aveva perso 1-0 Anche con il Milan Settimana scorsa E quindi Magari con avversari Meno forti Potrà anche fare punti Per salvarsi Ma insomma Problemi dell'Empoli E dei tifosi dell'Empoli Che simpaticamente Salutiamo I tifosi del Bologna Invece sono in estasi Non hanno mai vissuto Nulla di tutto questo Di recente In epoca recente Quindi È un sogno Ma è molto 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 concreto Un grandissimo Bologna Bene Grazie per la vostra attenzione Grazie per la fiducia Nei miei video Nei miei commenti Di partite di calcio Empoli Bologna 0-1 Gol di Fabian 1-2003 Che ti fa vincere Le partite E poi C'è Calafiore E poi Ci sono tutti quanti gli altri Veramente una grande prestazione Del Bologna Di Mago Motta Che fa miracoli Lui sì Ci vediamo molto presto E per il calcio Voglio un allenatore Grazie per la visione